Ciao picchi ragazzi, bentornati al mio canale Oggi ragazzi siamo qua su un campo da padel insieme ai Pirlas V Pirlas V, siamo a Bologna, padroni di casa e team Elitz Siamo qua al Junior Club di Rastignano Trovate tutte quante le info qui sotto nella descrizione Se volete passare a giocare anche voi a padel Ma oggi noi faremo una sfida un po' più particolare Molto particolare Perché non abbiamo due racchette, non abbiamo delle palline Non sappiamo giocare Esattamente Abbiamo un pallone da calcio a 5 Perché andremo a fare una versione diversa, Pierro Cosa facciamo oggi? Una versione calcistica, useremo i nostri piedi Oggi andremo a fare un football padel Vediamo un po' come andrà a finire Le due squadre sono già divise dalla rete Le regole saranno quelle proprio del padel insomma Quelle che possiamo ovviamente applicare E detto ciò andiamo a giocare Andiamo dentro con il match Allora saranno già 10.7 minuti ragazzuoli E poi niente, chi ne fa di più se la porta a casa Cercheremo di andarci piano Ok ragazzi benvenuti al padel center di Uno Club di... 3, 2, 1, via! Mamma mia attenzione Tatino Palla rimbalzo, attenzione Gnabry Palla buona Palleggiano bene gli elizio Attenzione E c'è il primo punto per i Pirlas V Il primo di una lunga serie Parte alla battuta Gnabry La palla è buona Tatino risponde Lo scambio! E non funziona lo scambio 2-0 Pirlas V Gnabry Seconda battuta per lui Attenzione palla buona Rimbalzo Non è valida Non è valida Perché ragazzi ha preso la rete E quindi deve ribattere un'altra volta Se sbaglia di nuovo è punto nostro E si riparte con questa bellissima sfida Batte Gnabry Attenzione fa rimbalzare due volte Credibile Tatino immobile Non si muove Per fare punto Dovete mandare la palla di qua 3-0 Pirlas V Inaspettato Parte Gnabry Incredibile Altra battuta di Gnabry Ottima Altra battuta di Gnabry Tatino di testa Palla di là Pierino col tacco Gnabry Rovescia Rovescia di Pierino Incredibile punto Ed è un 4-0 Ancora Gnabry Dominio Pirlas V Fino a questo momento Tatino Prova Oma Niente Ancora Ancora Pirlas V Ancora Pirlas V Palla buona Tatino Come una foca Oma Buona Rimbalza Gnabry Pierino di tacco Uuu Bellissima giocata A parte di Pirlas V Oma Ci prova Niente Niente ragazzi 5-0 Per Pirlas V Palla Battuta Oma Di testa Attenzione Incredibile Pierino Di testa Gnabry Di là E sbaglia Inclamorosamente E c'è il primo punto Prima battuta Per Ieliz Incredibile Batte Oma Eccolo Eccolo Buona Buona Questo servizio Gabry Pasticcia Un po' E regala Il punto A Ieliz Altra battuta Per Ieliz Attenzione Questa è buona Questa è buona Gabry Vediamo se farà meglio Attenzione Bellissimo scambio Oma Tatino Ok Riprende la partita Qui Alla riunior Di Rossignano Club Stadium Attenzione Tatino 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 Tattino Incredibile incompressione Tra i due E punto Pirlas V Ragazzi Siamo 8-2 8-2 Per Pirlas V Batte Pierino Om Om Non va E si riprende Qui Allo junior Club Stadium 9-2 9-2 Per Pirlas V Ancora la palla in gioco Attenzione Tatino Questa è buona Gabry Gabry Buonissima Pier Niente E c'è il punto Per Ieliz Ok Attenzione Batte Tati Buona questa Attenzione Il palleggio Di Pirlas V Niente 9-5 Incredibile punteggio Da parte di Ieliz Ragazzi manca poco Ve lo dico Alla fine del primo tempo Battuta Battuta di Tatino Minute agli sgoccioli Attenzione Gabry Pierino Di spalla Che spalla Start E la combina grossa Perché perde Il punto 6 Attenzione 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 Punto incredibile Punto incredibile 9-6 Batte Gnabry Incredibile Tatino Prova la spalletta Ma non li riesce Ultima battuta E poi fine Primo tempo Batte Gnabry Con arroganza Ma vedi un po' Tacco magico E niente Primo tempo 10-7 Si è concluso così Primo tempo 10-7 10-7 Cambio campo Cambio campo Ma non cambierà La partita E si riprende qua Al Cupra Stadium Incredibile Di Rastignano Partono gli Elitz Attenzione Gabry Pierino 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 Anche lezione Battuta Da parte di Pierla Sv Bellissimo Di tacco Elegante 11-8 Per Pierla Sv Attenzione Gabry Gabry Pierino Gabry Bellissimo scambio Magnifico Palla di là Ohm E c'è il rimbalzo Niente Ricordiamo che siamo 12-8 Batte Gabry Attenzione Buona Rimbalza la palla 13-8 Per Pierla Sv Batte di nuovo Gabry Attenzione Ha battuto Gabry Elitz Palleggiano Tacco incredibile 14-8 Per Pierla Sv Vedremo se gli Elitz Saranno capaci di ribaltarla O se no Il destino loro È segnato E Buona Attenzione Gnabry Gnabry Ohm Bellissimo scambio Tra i due E rimbalza All'ultimo Ragazzi è rimbalzato All'ultimo E quindi Non è buona 15-8 Per Pierla Sv 15-8 Per Pierla Sv Batte Gabry Attenzione Bellissimo scambio E niente 16-8 16-8 Per Pierla Sv Eccolo Niente 17-8 Gnabry Contro Elitz San Marino Contro Brasilia Senza verità Gnabry Gnabry batte Ohm La controlla Tattino la manda di là Incredibile Gabry In difficoltà E c'è il puto Incredibile Da parte Degli Elitz Go 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 16-9 Clamoroso Ci potrebbe essere il recupero Ma Il campo Tattino Il campo È quello blu È quello blu 17-9 Ragazzi Attenzione Pierino ci riprova Ma fallisce Clamorosamente Ma vedi che con quei piedi Devi salire solo sui mezzi pubblici Attenzione Battoni Elitz Ricordiamo il punteggio Di 17-10 17-11 17-11 Incredibile Pierino Pierino Gabry Questo è da ripetere Ribatte Ohm Palla buona Pierino Pierino Gabry Gabry Di nuovo lo scambio tra i due Bellissima battuta La palla rimbalza Ohm Sì Stiamo dilagando Ancora Ancora Gabry Ancora Gabry Gabry Attenzione Pier Gabry Pier Ed è punto Perché non si può giocare l'infinito Battuta incredibile Tattino Attenzione La rovesciata E non funziona 19-13 Attenzione 20-13 Attenzione Pirla su Battono ancora Pirla su Battono ancora Pirla su Sì Palla fuori Niente ragazzi È da ripetere Perché È da ripetere Ha battuto Pierino Tatino Ohm Bellissima questa giocata Bellissimo scambio tra i due Ancora La testa Eh C'è rimbalzo C'è rimbalzo Ed è punto Ed è punto per Elitz Attenzione Battutini Attenzione Pirla su Pirla su Ohm 2 minuti Tattino Mamma mia Il punto Del pistolero Tattino Tattino Incredibile Punto Mamma mia Da rivedere Tutta ragazzi E riparte Ohm Battuta Pierino La concentrazione Sale E stanno Recuperando E stanno Recuperando Terreno Incredibile Incredibile Battuta Eee 19 18 Incredibile da parte di Elitz Ha battuto Pirla su risponde Elitz Buona Buona Attenzione Si gioca Si gioca Ohm Ohm Palla di testa Tatino La batte di là Gabri Gabri Pierino Prova la giocata Ancora Ohm Ancora Tattino 20 18 Punteggio incredibile Attenzione Batte Pirla su Ohm Tatino Pier Buona Gabri Buona Mamma mia Come l'ha tenuta in gioco Tatino Incredibile Scambio tra i 4 Bella questa Attenzione Gestiscono il gioco Ohm Prova il punto così Non li riesce Ancora Il tacco di Pierino Ribattuta Incredibile E questo il gioco Ragazzi La rovesciata E non è giornata Per lui 20 a 19 Incredibile Attenzione Batte Tatino Tatino Pier Gabri Tatino Tatino Niente L'ultima battuta Questa è buona Questa è buona Tatino Ohm Bello lo scambio Pirla su Pirla su Pirla su Attenzione Tatino Ancora di là Gabri Gabri Esce al punto Ancora per loro Per gli aliz Batte Ohm Ribatte Pierino Pierino Tacco magico È buona È buona È buona È buona Ohm Prova la sponda Ma non li riesce Ragazzi Ultimi 20 secondi Prima della fine Del secondo tempo Ohm Ohm Calcola male La traiettoria E finisce così Ragazzi Questa partita È stato stancante No non è vero È stata combattuta È stata vera Cioè Gli stacco Poi siamo arrivati Un po' vicini Sì Siamo un po' calati Comunque molto divertente Devo dire Provate questo gioco Ragazzi Quindi ringraziamo ancora Lo Junior Club Di Rastignano Per averci dato Questa possibilità In questo bellissimo campo Esatto In descrizione Guardate tutte le loro info Mi raccomando Passateci a giocare anche voi E niente Sempre in descrizione Trovate il link Di questi ragazzoli Grazie alla visione Grazie a tutti E come sempre Ci vediamo al prossimo video Alla rega